Passo la parola a Lega Ambiente. Grazie, ciao a tutti, io sono Gigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto e anch'io ringrazio per l'invito oggi per proseguire e non iniziare perché già stiamo lavorando insieme e direi anche bene, fino a qui insomma un po' di risultati li stiamo ottenendo. Ad esempio che se ne comincia a parlare grazie a questa serata qui anche a Padova che ancora è rimasta un po' lontana diciamo come città che poi è importante che nelle città si alzi un po' l'attenzione rispetto a quello che succede invece nelle aree periferiche e dello stimolo che hai lanciato introducendo cioè dobbiamo ragionare su quello che è un bene comune, aggiungerei un bene primario cioè l'acqua, è inutile che sto qui a ripetere io qual è il valore dell'acqua per la nostra vita in tutti i suoi assai. rispetti però c'è un ordine di priorità evidentemente in questo momento che non solo in Italia sicuramente in Italia ma un po' a livello mondiale un ordine di priorità che mette l'acqua diciamo a uso umano, a accesso dell'essere umano lontano e distante da altre priorità che sono prima quella industriale a quanto pare, anzi prima quella agricola che però ha preso una brutta piega per quanto riguarda l'agroindustria quindi un impiego, uno spreco di risorse idriche per un modello di agricoltura che non è certo il modello di agricoltura che non è certo il modello di agricoltura. che invece si vuole provare a costruire, si sta iniziando a costruire ma c'è un grande ostacolo perché? Perché deriva da un ostacolo industriale che certo dovrebbe essere etico, dobbiamo aspettarci che sia etico anche perché ci sono diverse leggi che impongono l'essere etici a queste persone o quantomeno rispettare determinate normative sulle quali ahimè siamo carenti e questo è uno dei primi vizi di questa vicenda. Non sto a ripetere quanto male fanno i PFAS, lo abbiamo capito, non sono gli unici purtroppo e poi anche un passaggio magari su quello che ci ha, questa nota del NOE ci ha raccontato su quello che succede sotto la Miteni, forse c'è da aprire gli occhi anche su tante altre questioni e c'è da aprire gli occhi lo sguardo su quello che succede a livello un po' più ampio sull'acqua, su un bene primario così importante in tutta Italia. Perché? Perché è giusto per ricordare il contesto, in questo paese 18 milioni di persone non hanno accesso alla depurazione, in questo paese 9 milioni di persone non hanno l'impianto fognario, delle fogne fognario, in questo paese un milione di persone beve l'acqua potabile per decreto di legge. Quindi con valori al suo interno, tra questi a questo punto ci siamo anche noi anche se siamo dentro ai valori di legge che ancora non esistono, comunque poi magari ne riparliamo. Ma la situazione è questa, cioè la legge decide che in alcuni territori si può bere l'acqua con magari i valori più alti di arsenico piuttosto che di manganese, piuttosto che di altre tipologie di inquinanti. Quindi è evidente che siamo noi a decidere, cioè è chi governa, è chi mette le leggi, chi decide le leggi, a decidere quando l'acqua è potabile o no e in questo caso c'è da rendersi conto che non si sta decidendo se quest'acqua è potabile o meno ma si sta protraendo la decisione. Sappiate che c'è su questo che ci raccontava Giuseppe, c'è un imbalzo addirittura tra Ministero e Regione di responsabilità, cioè chi deve decidere. Ma no, li dovete mettere voi, ricorriamo alla Corte Europea, hanno ricorso in Europa perché il Veneto dice che i limiti li deve mettere il Ministero, il Ministero risponde no, li dovete, li potete mettere voi. Tanto più che la Costituzione che abbiamo mantenuto lo prevede insomma, visto anche un livello di autonomia o comunque di concorrenza di materia che dobbiamo per forza percorrere. Allora mi chiedo se la grande autonomia sbandierata e decidiamo per noi stessi si fermi solo quando incontra, o meglio non si ferma solo quando incontra questioni sociali e si fermi e faccia finta di niente e si nasconda quando incontra invece le questioni ambientali. Che poi riguardano la salute, che sono lo specchio complessivo, che sono lo specchio complessivo di richiamo a lavorare insieme perché oggi i temi ambientali, le questioni ambientali sono in assoluto, io credo, insomma uno dei principali motivi di discussione nei territori, principali motivi di azione nei territori, è sicuramente elemento di lotta che aumenta sempre più perché ci viene sottratto il benessere, ci se ne accorge magari solo perché si è nella zona rossa o magari perché si è in un altro territorio colpito da un'altra questione ambientale di inquinamento ma ancora si fa fatica a mettere insieme. Quindi questo credo sia un momento in cui mettere insieme i pezzi e la barra dritta verso la tutela di quello che è il benessere nostro e dell'ambiente in cui viviamo, che poi da lì qui siamo e da questo dipendiamo, penso sia abbastanza evidente, debba essere un punto di partenza che ci accomuna qui per andare avanti, per trovare soluzioni. Per quanto riguarda i PFAS, perché Legambiente si è interessata e si è impegnato? Beh, perché la storia insomma un po' tutti la conoscono, chi non la conosce c'è molto materiale accessibile, noi ad esempio sul sito Legambiente Veneto abbiamo una pagina dedicata dove trovate materiali, anche materiali interessanti di cosa gli organi ufficiali hanno deliberato in questi direi 4 anni, insomma dal 2013 quando si è scoperto grazie al CNR della presenza di questo inquinamento. Ci siamo interessati attivandoci con il nostro circolo a Cologna Veneta che è nel territorio interessato nella zona rossa, abbiamo nel 2014 fatto un esposto alla magistratura, sia alla procura, sia a Verona che a Vicenza per sollecitare attenzione sulla questione e abbiamo iniziato creando poi l'anno seguente il coordinamento Acquilibria da PFAS che è aderito da una serie di comitati, cittadini, associazioni e gruppi insomma che sono prevalentemente coinvolti nell'area rossa ma che speriamo continui ad allargarsi, coordinarsi per portare informazione, perché la prima cosa da notare è che l'informazione non c'è nei territori fino al 2015 diciamo si è abbrancolato nel buio, non si sapeva niente, se si sapeva erano notizie false, chi le diceva è stato intimidito con promesse di querela, poi qualcuno se le ha anche prese, ma siamo già nel 2017, di querela per procurato allarme, quindi questa era la posizione ufficiale del Consiglio regionale del Veneto, insomma essenzialmente dell'assessore Botacin e di altri consiglieri regionali che hanno puntato il dito dicendo che qui si stava procurando un allarme per la popolazione che non era il caso di procurare. Beh, la verità è tutt'altra, la verità sta, come dire, citerei a sottolinearlo, in questo antipasto, noi siamo convinti che è un antipasto di relazione preliminare che il NOE ha reso fortunatamente, sono depositato agli atti, quindi abbiamo un po' tutti potuto recuperare e leggere, che ci racconta in tre mesi, non in quattro anni, perché sappiate che il NOE ha avuto l'indagine consegnata in mano, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri ha avuto l'indagine l'8, assegnata l'8 di aprile, il 9 di aprile sono entrati i miteni, il 9 di giugno consegnano in procura il primo antipasto, diciamo, io lo chiamo così, della vicenda. In tre mesi è stata fatta più luce, o quantomeno si sono messi alcuni punti importanti sotto i riflettori, di quanto non abbiano fatto gli enti preposti in quattro anni. Stanziando però risorse economiche, e questo è un aspetto importante, perché risorse economiche sono state stanziate, deliberate e offerte per tamponare l'emergenza, che sembra un po', come dire, più che i vigili, mi viene da dirti Giuseppe, o sono i nonni vigile, oppure sono ausiliari del traffico, che magari danno un po' una mano, ma a fare i vigili proprio non gli viene tanto bene. Perché? Perché i provvedimenti sono sparsi, perché si è creato un allarme diffuso, che effettivamente nel territorio è molto forte, chi vive in quella zona non beve oggi acqua inquinata da rubinetto, ma ha bevuto per 40 anni acqua inquinata da rubinetto, perché le carte di noi lo dicono, è da 76 che l'inquinamento è esistente e presente, e i vari passaggi societari hanno saputo, sempre saputo, che questo inquinamento era presente, e hanno anche tentato di intervenire, ma usciranno piano piano tutte queste informazioni, spero abbiate voglia di informarvi, perché è molto interessante la vicenda, quindi hanno mentito, sapendo di mentire, dicendo che l'inquinamento non era conosciuto, e soprattutto nessuno è intervenuto, cercando di porre rimedio a quella che è l'origine dell'inquinamento, cioè la sede, il sedime di quell'azienda, l'area limitrofa dove sicuramente è stato scaricato del materiale inquinante, come il torrente Poscola che corre di fianco, così, insomma, al momento unica zona dove, un po' a specchietto per le allodole, unica zona dove si trovano inquinanti, ma in realtà, insomma, anche qui le carte raccontano come sia stato pavimentato la superficie della Mitteni, insomma, una serie di questioni presenti che è stato meglio, come dire, non portare a galla. Beh, questo la legge non lo prevede, quindi l'onestà, come dire, dovrebbe prevalere, speriamo, per portare poi luce sulla vicenda, perché la legge prevede che l'inquinamento va comunicato quantomeno. Questo per dire che la responsabilità non sono certo da imputare a chi oggi, solamente oggi, dirige l'azienda, ma sono da imputare oggi a chi dirige quell'azienda, perché ha omesso informazioni importanti, e quindi questo è assolutamente da, come dire, punire, e poi speriamo si possa intervenire sulle precedenti gestioni che hanno creato anche questo problema. E allora, se in questa vicenda, in questa situazione di scarsa informazione, di, chiamiamolo, come dire, tenuta stagna delle informazioni verso il pubblico, parentesi, vi ricordo anche la questione animali, la questione prodotti, che poi, insomma, i nostri piatti finiscono, oltre l'acqua, come accennava Giuseppe, ha avuto una prima indagine nel 2015, annullata, ora in corso, le cui analisi e risultati dovremo avere, speriamo, dovranno essere adesso, dovremo averli a settembre, e ci racconteranno qualcos'altro, insomma, un pezzo importante, anche questo, non solo di salute, ma anche di economia, perché il nostro territorio vive anche di agricoltura, quel territorio, e sicuramente vive anche di agricoltura di sussistenza, chi ha l'orto in casa, insomma, ecco, in questi anni cosa ha fatto, che acqua ha utilizzato. Quindi si è creato questo panico diffuso, un panico al quale bisogna rispondere con rigore scientifico, bisogna rispondere con la capacità di richiedere interventi e non risposte, perché questo è l'altro passaggio che anche qui il NOE sottolinea, fa una cosa straordinaria, dice cosa fare, insomma, ecco, dice agli enti cosa fare il NOE nel suo passaggio, o meglio suggerisce, insomma, poi vedremo cosa faranno, che è fuori dalla norma, insomma, ecco, voglio dire che chi fa indagine debba anche dire, per favore, parlatevi, ad esempio, tra il Ministero, tra l'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità e l'ARPAV qui in Veneto. dice anche, indagate gli altri inquinanti, perché ci sono altri inquinanti presenti, in maniera importante, e chiede di questi inquinanti quali risposte e quali notizie possiamo dare ai cittadini, che oggi sono, appunto, in allarme. E poi dice, in maniera, insomma, ecco, abbastanza importante, dice alla Regione Veneto che è il momento di prendere in mano la questione. Questo è un passaggio molto interessante di questa nota, perché è evidente che qui la Regione Veneto è il primo soggetto autore, che da vigile dovrebbe trasformarsi in chi governa, cosa che non si sta per questa vicenda facendo, e quindi invita la Regione Veneto a attivarsi rapidamente. Bene, cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Il territorio lo chiede da, e chiudo, insomma qui, cosa bisogna fare? Il territorio lo chiede ormai da qualche anno. Lo chiede con una petizione in particolare, territoriale, insomma, presa proprio dal coordinamento a quelli liberi da FAS, che ha intorno alle 15.000 firme raccolte, che non sono mai abbastanza, devo dire, perché qua bisogna sempre dimostrare qualcosa in più. Ha una raccolta firme online, anche questa, che ha delle migliaia di firme, che si unisce e si affianca a quella anche di Greenpeace, che qui però in particolare per il territorio chiede due cose. La prima, che venga subito fatta la nuova presa per l'acquedotto, perché è impensabile portare l'acqua con gli autobotti, è impensabile trovarsi in situazioni di crisi, se non transitoria, perché poi ci sono alcune situazioni particolari, come i bambini e gli anziani, che sono particolarmente esposti, per i quali forse varrà la pena valutare anche interventi di emergenza, insomma, perché sicuramente l'evento è straordinario, come dicevi in apertura. Però bisogna assolutamente cambiare presa, bisogna farlo con progetti, non con parole, e i progetti ad oggi non ci sono, e quindi anche se sono stati prodotti dai soggetti che gestiscono la rete idrica, ma sono fermi anche questi in regione. E questa è la prima cosa che chiede la petizione. La seconda chiede i limiti restrittivi più bassi possibile che ci sono in Europa. Quindi sappiamo che lo zero probabilmente non sarà possibile, ma noi ci puntiamo, ma il limite deve essere più restrittivo in Europa perché se no ci stiamo solo che prendendo in giro. E questo deve avvenire anche perché lo hanno detto gli organi dello Stato. Lo ha detto il Ministero all'Ambiente, lo ha detto l'Istituto Superiore di Sanità, che i filtri oggi a carbone che si usano sono soluzione transitoria e che l'unica soluzione è cambiare presa dall'acquedotto rapidamente e ovviamente tendere a zero con i limiti e cambiare modello produttivo, che è un po' quello che sottende poi la campagna detox in generale, una bellissima campagna di Greenpeace globale su cui bisogna un po' sollevare gli animi. Allora, chiudo sull'inerzia negativa della regione, tanto se servisse a capire che ce l'abbiamo un po' con la regione Veneto, rispetto a una questione che è anche attuale, cioè noi siamo in crisi idrica, penso anche questa sera siamo in crisi idrica, perché fa un caldo infernale, ma la crisi idrica del Paese è importante, è anche quella del Veneto, dei fiumi Veneto, dei corsi d'acqua, veramente importante. Bene, sappiate che dal canale Lab, che è un canale di acqua pulita che serve per irrigare, vengono deviati 6 metri cubi al secondo, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, anche in siccità, momento in siccità compresa, per di fatto diluire le acque di scarico dell'area degli inquinanti, del collettore Arica, delle aziende, delle concerie, ma anche di Miteni, che vanno poi a entrare nel frattacorzone, uno dei fiumi più inquinati d'Italia, non solo per i PFAS, purtroppo, insomma. Quindi siamo in una situazione di mala gestione da parte dell'ente che governa, e soprattutto, come dire, anche di fette di prosciutto sugli occhi, perché quando, anche per gli altri aspetti, quindi quello della crisi idrica, che sta colpendo in maniera particolare il Veneto, l'agricoltura, l'economia, non si provvede, con urgenza come si fa per altri tanti provvedimenti, a fermare questa diluizione di fatto, che sappiate che per legge è vietata, che diluire le acque di fatto di scarico è vietato per legge, ma in qualche modo è stato ammesso, non si fa neanche un intervento momentaneo per provare a ritornare a un livello di acqua nei nostri fiumi, oltre che nelle falle, un po' più importante. Allora, io chiudo, raccogliendo l'invito, rilanciando i prossimi appuntamenti insieme, che sicuramente ci saranno, dalla consegna delle firme, che evidentemente andremo prima o poi a fare in regione, a altri appuntamenti di informazione, di sensibilizzazione, soprattutto di dare notizia, di confronto con chi questi problemi li dovrebbe governare, non con chi si dovrebbe occupare, come dire, di informare certi cittadini, ma di altro, non certo, di suggerire al governo regionale cosa deve fare. Grazie.